Distruzione. Ti annoi come me o sei solo pigro? Se non ti amassi così tanto ti ucciderei solo per passare il tempo. La chiamata? Finalmente. Sembrava un franchise dato per spacciato, praticamente morto dopo i lunghi anni di obbligo, e invece siamo arrivati al terzo capitolo. Abbiamo giocato a fondo Darksiders 3 e questa è la nostra video recensione. Darksiders 3 prosegue nel raccontare le gesta dei quattro cavalieri dell'apocalisse, seguendo le vicende del terzo elemento del gruppo, ovvero Furia. A livello temporale la storia si colloca così dopo la cattura di guerra e si limita a chiarire alcuni fattori della narrativa di fondo senza andare a stravolgere gli avvenimenti degli altri giochi. Ciò non significa però che manchi una trama di fondo interessante. Infatti Furia è la più umana dei cavalieri e l'intera avventura segue proprio la sua crescita personale. La campagna non è straordinaria dal punto di vista narrativo, ma è sempre piacevole grazie all'aggiunta di nuovi tasselli a un background molto complesso e allo sviluppo di una protagonista imperfetta al punto da risultare odiosa durante le prime battute. Anche dal punto di vista del combattimento, all'inizio Furia è una combattente molto limitata, armata solo di una frusta e di combinazioni semplicistiche. Con il tempo acquisisce però poteri estremamente interessanti e capaci di variare notevolmente il gameplay. Queste capacità si chiamano Hollow, poteri elementali che permettono di utilizzare armi secondarie dedicate, magie che sfruttano una speciale barra della collera ricaricabile a suon di colpi e abilità di navigazione legate all'esplorazione di una mappa interconnessa e limitata da elementi di tipo metroidvania. Il sistema di combattimento è nel complesso meno vario rispetto a quello più marcatamente action dei predecessori. Una netta impennata della curva di difficoltà, tuttavia, ha portato ogni nemico ad attaccare la protagonista non appena entra nel suo raggio d'azione. E' impressionante anche la varietà degli avversari che risultano agili e capaci di un gran numero di attacchi. Per abbassare un po' il tasso di sfida, Furia può spendere le anime accumulate durante il combattimento tra una zona e l'altra. In Darksiders 3 si possono acquistare oggetti e potenziamenti presso appositi mercanti, oppure accrescere i valori delle tre statistiche che caratterizzano la protagonista. Il livello di Arkano influenza schivate e contrattacchi, potenziando i poteri della collera e questo genere di assalti. Forza e vitalità, invece, permettono di sferrare colpi sempre più potenti e di ottenere maggiore resistenza. L'elemento che più di ogni altro evidenzia l'esperienza del team è però un mondo di gioco diversificato e ricco. Grazie al brillante posizionamento di boss, oggetti necessari ai potenziamenti e avversari, Darksiders 3 permette sempre di capire dove andare, nonostante la libertà lasciata al giocatore nell'affrontare i sette peccati capitali, ovvero i potenti demoni la cui cattura è l'obiettivo finale della missione di Furia. L'avventura è quindi scorrevole e divertente, ma non manca di alcuni difetti che evidenziano un budget inferiore rispetto a quello dei primi due capitoli. A un evidente aumento della difficoltà corrisponde infatti una riduzione netta nella qualità e nel numero degli enigmi, in favore di una mappa più raffinata e di battaglie più adrenaliniche. Il più delle volte la soluzione ai vari rompicapo è subito evidente, e sembrano spariti gli enigmi più cervellotici per favorire il ritmo generale di avanzamento. I boss sono andati incontro a un trattamento simile e mancano quasi totalmente di meccaniche specifiche che ne facilitino l'eliminazione per vie traverse, fatta eccezione per un paio di casi particolarmente interessanti. Infine, la precisione necessaria all'avanzamento in certe zone ha reso l'elemento platform un po' legnoso e irritante. Si tratta di problematiche che non rovinano un'esperienza comunque piacevole, ma che si sentono in particolare nella fase finale della campagna, che risulta frettolosa e meno interessante del previsto. Ottima è invece l'Art Direction, che si mantiene molto vicina all'immaginario originale e offre personaggi ricchi di carisma e ambientazioni in grado di stupire per composizione e scelta dei colori. Darksiders 3 ha così un'identità grafica ben precisa, che contribuisce a far passare in secondo piano certe limitazioni e qualche bug secondario. Dopo lunghi anni di gestazione, Darksiders 3 ha rischiato di essere uno spin-off di poco conto e invece il risultato è quello di un gioco molto divertente e strutturato nonostante qualche difetto di troppo, ma soprattutto molto rispettoso della propria serie di origine. EA MEILE… Vieni a prenderlo! Ha! Edio! Ah! Trying!! Yeah! Ah! No, 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 no.